Voi ragazzi, è stupendo! Venite in Romagna! Romagna è? Sì! Passione! Vieni a Romagna perché la Romagna è un po' di rivolte e rilamanisce! La c***a! Vieni a Romagna perché si sta troppo bene! Ciao a tutti! Ben tornati su! È meraviglioso! Vieni a Romagna! Vieni a Romagna! Vieni a Romagna! Vieni a Romagna La Romagna! Un po' di rivolte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.